Allora, allora, allora. Uh, mi sono dimenticato una cosa. Abbiamo bisogno probabilmente di un'ascetta. Perché il rosso avrà protetto anche con la legna. Ok, 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 ok. Quello schifoso del bianco, ragazzi, che non aveva niente a che fare. Rekt. Rekt. Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle Bed Wars negli Hypixel. Finalmente gli Hypixel hanno aggiunto la modalità Bed Wars solo. Quindi non siamo costretti a far team con altre persone o con gente random. E personalmente lo preferisco perché non mi piace molto giocare in team. Preferisco giocare da solo perché tendo a dar colpa poi al mio team quando perdo una partita. Invece se sono da solo la colpa è soltanto mia che sono un cretino se perdo. Comunque ho giocato tantissimo queste Bed Wars questa mattina e mi sono divertito tantissimo. Personalmente le trovo molto migliori di quelle in team perché sono più divertenti. Puoi fare tutto quello che ti pare piace, puoi trollare gli avversari e questo è fantastico. Sapete quanto mi piace trollare gli avversari e dobbiamo prenderci altra lana per arrivare a prendere tutti i diamanti. Vi invito ovviamente ragazzi a lasciare un bel mi piace già da subito. E no, per i simpaticoni che poi mi diranno, ma che c'entra Giada? No, non Giada. Già da subito. Cioè, adesso, all'istante, non Giada è il nome proprio di persona, capito? Quindi dovete lasciare mi piace adesso. Allora, prendiamoci i diamanti subito al volo così ci possiamo prendere, ci possiamo equipaggiare molto meglio. E possiamo anche arrivare nell'isola degli Smeraldi se ci prendiamo un altro pochettino di lana. Anzi, me la sarei dovuto prendere molto prima. Sono troppo lento. Sto diventando troppo lento in queste Bed Wars. Sto invecchiando ragazzi. E stamattina le ho fatte talmente tante ragazzi. E vi posso assicurare le ho vinte praticamente quasi tutte. Perché sono veramente un portento. Sono diventato troppo bravo in queste Bed Wars. Sono il re, il grande capo, l'imperatore potentissimo delle Bed Wars, degli Hypixel. Allora, vediamo di prendere... Oh, intanto questo diamantino. Perché non lo lasciamo di certo a nessun altro. Eh sì, vediamo di avvicinarci immediatamente verso gli Smeraldi e fare... Ecco. E fare che mi hanno appena rotto il letto. Però non importa ragazzi. Perché sapete bene che io, quando gioco senza letto, senza uovo nelle Egg Wars, per esempio. Riesco a vincere più facilmente le partite. Perché ho più adrenalina, più carica e più sete di vendetta. E guarda, questo è lo stronzo che mi ha rotto tutto. Ah sì? Tu mi rompi il letto? E tu credi di poterla passare liscia con Kendall che perde il suo letto per colpa tua? Io ora ti ammazzo. Io ti ammazzo tantissimo. Hai un cuore, hai un cuore! Un altro colpo, un altro colpo! Un altro! Uh! Ah, ce l'abbiamo fatto, ok. Siamo rimasti veramente a pochissima vita. Abbiamo rischiato tantissimo. Però siamo riusciti a ucciderlo. Non importa che abbiamo... Guardate, c'è proprio che stronzo. Anziché venire contro di me che è andato a fare questo. Se ne è andato proprio... Ok, ora ti faccio vedere io. La compriamo immediatamente in stone. Oh, no, 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 no. Tu hai capito male, tu hai capito male. Ti devo uccidere, ti devo uccidere. Oh! Ok, adesso probabilmente non ci verrà più nella mia isola. Semplicemente perché ha visto che comunque c'ho una spada buona che sono equipaggiato. Credo solo un kamikaze verrebbe di nuovo a cercare di uccidermi. L'ha capito che sono forte e morirebbe soltanto in continuazione. Quindi basta, lasciami stare. E fammi prendere per favore adesso tutti gli smeraldi del centro. Così mi equipaggio da dio e ti vengo a spaccare le gengive. Anzi, prima ti spacco il letto, poi ti spacco le gengive. Che te ne pare? Ok, adesso ragazzi siamo al centro. Non abbiamo ancora una corazza, ovviamente, perché non siamo riusciti a prendere nessuno smeraldo. Ma sembrerebbe che nessuno li abbia presi. Sì, sì, sembrerebbe che tutti gli smeraldi siano qua per terra, pronti ad aspettarmi per potermi fare una corazza pazzesca. Mio Dio, avevo sentito qualcuno, ragazzi. No, 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 no. Sto sentendo qualcuno. O ho le allucinazioni, ragazzi, oppure ho visto e sentito qualcuno dietro di me. Mmm, non mi piace questa storia, non mi piace questa situation. Quindi torniamo un attimo a casa. A casa casina, perfetto, in questo modo. Ta ta ta, ci prendiamo gli altri diamanti. Così ci equipaggiamo per bene. Ottimo. No, ce ne serve un altro ancora. Così ci possiamo fare un bel protection. E il rosino che sta facendo? Qua tutti stanno facendo il giro delle isole, ragazzi. Io ho soltanto bisogno adesso di un po' di corazza migliore. Mi droppi un bel diamantino, per favore? Tra 8 secondi. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Buon anno! Ok, adesso che abbiamo anche l'altro diamante ci possiamo andare a fare un bel prote... Aspetta. Sì, costa 5 il protection, giusto? Non costa di più. O costa 5 o costa 6, non mi ricordo. Penso 5, vediamo. Ah no, costa 2. What the fuck? What the fuck? E costa soltanto 2 il protection 1? Ok. Ci prendiamo ovviamente l'armatura, perché è quello di cui abbiamo bisogno. Una bella armatura in diamante. Eccolo ancora. Ci prova lui. In perterrito, ragazzi. E che sta facendo? Ah, la sua trappola è quella che io adesso, secondo lui, attraverso il ponte e mi faccio buttare giù. E se io invece adesso vado a casa tua, che te ne pare, eh? Che te ne pare come piano? E se ti spacco il letto? Stupido. Oh mio Dio, quanto è stupida la gente. Eh, ovviamente io adesso c'ho casa tua completamente libera e ti spacco il letto. Oh mio Dio, che idiota. Non ci avevi pensato a questo, eh? Non ci avevi pensato che ora ti spacco il letto e ora sei morto. Ups, ups, ups. E ora non c'è più il lettino. E ora non c'è più il lettino. E io sono equipaggiato 150.000 volte meglio di lui. Quindi ora lo ammazzo male. Eh, però vedete, è un coniglio e continua a scappare. Sta cercando semplicemente di buttarmi giù, ragazzi. Questo è il suo piano. Mi vuole buttare giù, esatto. Sì, 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 sì. E io non mi faccio buttare giù. Io ti ammazzo e sei finalmente stato eliminato da questa partita. Ah, quello che mi stava causando più problemi di tutti, ragazzi. Che mi è venuto a rompere il letto senza che io gli avessi fatto minimamente niente. Cioè, proprio, è venuto nella mia isola e mi è venuto a spaccare tutto. E io che gli avevo fatto niente. Forse gli ricordavo qualcuno che l'avrà picchiato da piccolo. Rinforziamoci ancora la corazza. Perfetto, ora abbiamo un bel protection 2 in tutta quanta la corazza. E no, questa costa 4. Quindi abbiamo bisogno di ancora tanti altri smeraldi. Che io... no. Stavo dicendo che io andrei a mettere quasi quasi nell'ender chest. Perché così non li perdo. Ma sono un cretino. Mi sono ricordato che il letto comunque mi è stato rotto. Quindi se dovessi morire muoio e basta. Quindi l'ender chest non mi serve completamente a niente. Posso tenere anche tutto quanto in inventario. Allora, vorrei ragazzi cercare di farmi un bel protection 3 in questa corazza. Sarebbe fantastico se riesco a farmela protection 3. E costa però un bel po' di diamanti. Però se riusciamo a farla, ragazzi, secondo me ne vale tantissimo la pena. E ci possiamo anche fare una bella spara in diamante, tra non molto. Ora, siamo rimasti in veramente pochissimi. Però ancora tutti quanti hanno il letto. Io sono praticamente l'unico sfigatello ancora in vita senza letto. E questo non mi piace per niente. Allora, 6 smeraldi. Perfetto, torniamo un attimo a casuccia. Così ci prendiamo... Ma nessuno vuole venire al centro. Io non capisco. Ah no, un rosso invece è venuto al centro. E ha perso il letto. Guardate quel viola. Guardate il viola. O pink in questo caso, perché non è proprio viola. In realtà la mappa segna che lui è rosino. Allora, sapete cosa? Io lo uccido questo e poi gli vado contro. Gli vado a casa sua. E cerchiamo di spaccargli il letto. Ok, sei morto. Ce la faccio ad arrivare a casa tua? No, no, mi sa che non ce la faccio. No, 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 no. Mi sa che non ce la faccio. No, no. Non ce la faccio per niente. Però mi posso prendere i diamanti. Cioè questo ha saltato. Ok, sì, ha saltato. Facciamo così, così, così. È ancora a casa. Ma io non lo vedo. Mi sa che così, così gli vado a spaccare il letto, ragazzi. Lol. Aspettate. Oh mio Dio, sono un cretino. Oh mio Dio. Avevo visto, ragazzi, i blocchi rosa. E pensavo che questa fosse la casa dei rosa. Invece la casa dei rosa è quello. Ho capito. Questa è la casa dei neri o dei grigi. Oh mio Dio. What the fuck. What the fuck. Mi sono confuso. Allora, questo qua è convinto di essere forte abbastanza. Non potermi uccidere. O addirittura da trollarmi. Ma tu come vuoi trollare un trollatore? Come speri di poter trollare il re dei troll? Oh mio Dio. Allora, ci dobbiamo fare una spada migliore. Quindi prendiamoci questa bella spada in diamante. Ottimo. E buttiamo via tutto il resto. Poi abbiamo quattro smeraldi, direi. Cioè, quattro diamanti, volevo dire. Direi, 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 direi di fare questo. No, non serve a niente quello. Perché l'ho fatto? Vabbè, facciamo questo allora, dai. Tanto gli diamanti adesso non mi servono a niente. Mi servono soltanto per farmi la corazza Protection 3. Ma ancora non la posso fare. E quasi quasi andrei a casa dell'amico mio, Rosino, che stava cercando di uccidermi. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, certo. Perché io ti lascio, io ti lascio uccidermi in questo modo, vero? Sì, non ti sto spaccando il letto adesso, no? No, no. Non ti ho rotto il letto proprio adesso. E ora che spavano, poverino, sarà morto. Dov'è? Ah, ha leftato. Ok, meno uno, ragazzi. Non spawnerà proprio perché gli ho spaccato tutto quanto direttamente. Perfetto. Avete sentito? Avete sentito anche voi, ragazzi? Giuro di aver sentito qualcuno che ha tirato un Ender Pearl. Ve lo giuro, non sto scherzando. Ok, probabilmente... Sì, eccolo, eccolo! Oh mio Dio, è invisibile! L'avevo... Ti avevo sentito, brutto schifoso. Era invisibile, oh mio Dio! Oh mio Dio, lo sapevo! What the fuck? Per fortuna, ragazzi, sono riuscito a ucciderlo. What the fuck? Questo mi poteva uccidere senza troppi problemi. Ci dobbiamo prendere delle Gapol. Sì, 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 sì. Abbiamo bisogno di rigenerare la vita. Che qua è veramente... Un terreno di battaglia pazzesco. Allora. 5 diamanti. Questo ne costa 8. Dobbiamo andare a prendere degli altri diamanti al volo. Oh mio Dio! Per fortuna, ragazzi, che sono sveglio abbastanza e l'ho sentito in anticipo. E quindi ero già pronto con la mia spada affilata in mano. Perché altrimenti se questo mi cogliava di sorpresa, ragazzi, sarebbe stato un grosso problema. Sarei praticamente morto al 100%. Ok. Ci siamo salvati. Ci siamo salvati per un pelo, ragazzi. Veramente, per tanto così ci siamo riusciti a salvare. Perfetto. E chi era? Era il verde, se non sbaglio. Se non vi ho visto male, era il verde. Che ha ancora il letto. Allora, l'unico rimasto appunto con il letto è proprio il verde. E poi ci abbiamo anche il white. Che è ancora in vita. E ci sono... Ah no, il white sono io. Sono scemo, ecco così. Sono completamente stupido. Ok. Siamo rimasti quindi in uno contro uno. Prendiamoci dell'altro grapple. Questo che cos'è? Icefish. Unbreaking owner. Che cosa me ne faccio? TNT Enderpearl. Uh, sarei tentato a prendermi l'Enderpearl. Ok, facciamo così. Perfetto. Mettiamoci questo qui adesso perché non si sa mai. L'acqua ci potrebbe servire, ci potrebbe tornare utile in futuro. Eccolo là sotto il verde, ragazzi. Il nostro ultimo sfidante. Esattamente là sotto. Però che cosa potrebbe fare? Io quasi quasi mi prenderei, ragazzi, tanti di quegli smeraldi per potermi fare le Enderpearl. Sì, 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 sì. Credo che questa sia la tattica migliore. Uso un Enderpearl e poi gli vado contro. Magari l'idea invisibile, proprio come ha fatto lui. Sì, sì. Credo sia la cosa migliore da fare. Quindi continuiamo a prenderci smeraldi. Torniamo poi a casa. Con l'acqua, che cosa ci posso fare? Fatemi utilizzare un attimo l'astuzia, ragazzi. Con l'acqua, vediamo. Beh, l'acqua la potrei tirare. Se sto per cadere la posso buttare tipo nel ponte in modo tale da utilizzarla. Ma non credo sia così stupido da lasciarmi utilizzare l'acqua se l'ho tirata. Cioè, basta che piazzo un blocco, me la toglie e io cado giù. Quindi, no. Credo che l'acqua sia completamente inutile. Però noi ce la teniamo perché non si sa mai. Ah, magari la potremmo utilizzare per scappare. Ecco, per scappare potrebbe essere più utile. Allora, prendiamo questo. Adesso prendiamo delle enderpearl. Che costano 4, quindi ne possiamo prendere soltanto 2. Pozione di invisibilità ce l'abbiamo qua alla mano. Pronta. Ottimo. Eeeh, ok. No, 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 no. Non è ok. Perché mi serve prima un piccone. Sì, sì. Mi serve un piccone. Oh, ok. Perfetto. Allora, facciamoci adesso la nostra accetta. No, non mi serve l'arco. Dov'è? Perfetto. Accetta. Pronta. E la mettiamo, la mettiamo, direi di metterla, eeeh, al posto dei blocchi. Sì, perché tanto i blocchi per ora non ci servono. Allora, boys. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo arrivare al centro, senza farci del male, ovviamente. Lui dov'è? Dove si trova il nostro amichetto verde? Convinto di poter vincere questa partita. Ha! Povero sciocco. Povero illuso. Allora, se riusciamo a trovarlo, ragazzi, sarebbe fantastico. Altrimenti gli devo lasciare proprio a casa sua con l'enderpearl. Sì, mi sa che non è a casa. E allora, se io ti vado a fare una visitina, che fa? Ti offendi? Eccolo, eccolo, eccolo. Oh, mio Dio, mi stavo buttando giù. Oh, mio Dio, ragazzi, per pochissimo non cadevo. Allora, siamo a casa sua adesso e io direi di rompergli il letto. Perfetto. Ciao, ciao, amico. Il tuo letto è stato spazzato via. E adesso verrà qua? No, ne dubito. Eh, ora si campera. Ora si campera lo schifosino. Lo schifosino si campera. Io mi bevo questa bella pozione, ragazzi. Ottimo. Così ora sono completamente invisibile. E per chi mi dirà poi nei commenti, no, Kendall, c'è un'armatura, non sei invisibile. No, sono invisibile, ragazzi. Soltanto la spada. Loro possono vedere solo la spada. L'armatura non si vede. E adesso, ragazzi, mi sa che abbiamo proprio vinto questo Bedwars negli Hypixel. Facendo la bellezza di otto kill. Ragazzi, sono un Terminator. Sono proprio il capo supremo delle Bedwars. Soprattutto degli Hypixel. Perché nelle altre Bedwars ho un po' più difficoltà. Però negli Hypixel sono il capo supremo. Vi invito, ragazzi, a lasciare un bel mi piace per questo video. Condividetelo con un vostro amico per fargli vedere il mio canale. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Da Kendall è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao!